E' uno dei piatti italiani più amati. La pizza, con le sue varianti e condimenti, viene gustata in ogni angolo della terra. La pizza ha origini antichissime. Probabilmente furono gli egizi la prima popolazione a scoprire il segreto della lievitazione. Il primo forno risalirebbe a 4.500 anni fa. Quella che siamo abituati a mangiare nasce a Napoli nel 600 e diventa rossa nel 700 con l'ingresso del pomodoro nella cucina italiana. Nel 1889 Raffaele Esposito e sua moglie Rosa, titolari di una pizzeria, preparano una pizza tricolore con pomodoro, basilica e mozzarella per la regina Margherita, moglie di Umberto I. Nasce la Margherita. Ma quanti tipi di pizza esistono? Le varianti sono infinite, ma alcune sono davvero insolite. In Australia fanno la pizza con carne di alligatore e canguro, mentre in Svezia sono ghiotti di pizza con la banana. A Taiwan ne hanno inventato una a base di riso. E che ne pensate della pizza tropicale con ananas, lime, gamberi, mozzarella e tequila? Non parliamo poi di record. Nel 2014 a Las Vegas si sono sfidati i pizzaioli più veloci. Il vincitore ha impastato e infornato tre pizze in 32 secondi. La pizza più cara al mondo è da ricondursi a un pizzaiolo di Agropoli. Ben 8.300 euro. Tra gli ingredienti mozzarella di bufala dop, sale rosa australiano, caviale, aragosta, gamberoni e champagne. E a proposito il record. Dove è stata realizzata la Margherita da Guinness dei Primati di 1,853 metri? Inutile chiederlo. A Napoli?